La riforma non taglia i costi della politica, ma la democrazia. È una chiamata alle urne per votare no al referendum costituzionale, quella che il sindaco di Pietrasanta e vice coordinatore di Forza Italia Massimo Mallegni ha rilanciato in occasione del dibattito che si è tenuto domenica mattina nel chiostro di Sant'Agostino. Lo hanno ribadito tutti gli ospiti protagonisti della giornata di lavoro, focalizzata sullo smontare gli spot del premier Renzi e nell'avanzare proposte concrete per il post-referendum. A Pietrasanta, per sostenere il no, è arrivata anche la costituzionalista e senatrice Anna Maria Bernini, che ha ricordato come, per volontà del premier, il voto del 4 dicembre non è solo sui contenuti, ma anche un voto politico. Sempre per il no al referendum costituzionale, è programmato per martedì sera alle 21, presso il Cinema Centrale di Viareggio, l'incontro con Pierluigi Bersani, ex segretario del PD, che interverrà insieme a Rossano Rossi, segretario provinciale CGL, Maria Grazia Manfredi, Marco Corsetti e Marian Puosi, per spiegare le ragioni del no al referendum di domenica 4 dicembre. Domani sera, come Democratici per il no di Viareggio e della Versilia, abbiamo organizzato l'evento clou di questa campagna referendaria, con la presenza di Pierluigi Bersani, che quindi ringraziamo vivamente la sua disponibilità, per fare questa assemblea pubblica al Cinema Centrale alle ore 21. La serata è un momento di coinvolgimento anche per tutte quelle forze progressiste della sinistra, che da sempre hanno fatto una scelta per il no, dalla CGL, all'Arci, all'Ampi ovviamente, che porteranno ognuna di queste il saluto alla serata stessa, e quindi invitiamo i cittadini a essere presenti.